Rivivi l'estate leporanese, ventiquattresima edizione, siamo con il sindaco di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano, una rassegna particolarmente ricca che, come dire, accontenta i vari gusti musicali e culturali, assecondando le varie sensibilità. Certo Luigi, come tu hai detto, si tratta di una rassegna molto ricca, per cui andiamo dal cantante neomelodico Daniele De Martino, per il quale abbiamo avuto tante richieste, io sinceramente non lo conoscevo, poi quando ne abbiamo parlato insieme all'assessore alla cultura Yolanda Lotte, al turismo e allo spettacolo, ci siamo accorti che in realtà era stata una scelta fatta bene, perché comunque abbiamo avuto tanti riscontri, tanti messaggi, tanti complimenti per aver organizzato questa serata. E dicevo, si va dal cantante neomelodico ad eventi chiaramente di spessore culturale, come la presentazione del libro del giornalista Gambarotta, la confraternita dell'Asino, un giornalista molto conosciuto, molto quotato in Rai e poi abbiamo l'onore del ritorno nella nostra Leporano, lo accogliamo sempre con gioia di Monsignor Filippo Santoro, che ci presenterà il suo libro parlando dei suoi 25 anni di episcopato, ma tanti altri eventi, Luigi... Dalla cultura allo spettacolo, al folklore... ...al folklore e all'archeologia, perché finalmente ritorna alla sua casa madre dopo solo un anno di pausa il Satirion per l'archeologia. Una perla, un'eccellenza... Una perla dell'estate Leporanese, un evento veramente molto interessante che negli anni precedenti ha fatto venire qui nella nostra Leporano degli archeologi di fama internazionale, quindi finalmente quest'anno il Satirion ritorna. Si chiuderà in bellezza con il Satirion... Si chiuderà in bellezza con uno spettacolo di alto spessore culturale. E poi altri spettacoli, come ad esempio il concerto di Clementino il 5 agosto, che tu sai è il giorno più importante per tutti noi leporanesi, la festa di Sant'Emilio. Ma abbiamo anche la cover dei Poo, i Palasport il 7 agosto e abbiamo anche dei momenti di fede, perché oltre alle giornate dedicate al nostro santo patrono, il 3 agosto ci sarà la consegna ufficiale della bandiera dell'associazione del Santissimo Crucifisso alla nostra comunità. Un'associazione di cui noi ci onoriamo di far parte da alcuni mesi e che raccoglie circa 45 comuni in tutta Italia che sono devoti al culto del Crucifisso. Quindi vogliamo rivivere, rivivi l'estate Leporanese 2021 in tutta serenità sia con i nostri concittadini, sia con tutti coloro i quali interverranno dalla provincia e oltre. Vogliamo garantire degli spettacoli nella massima sicurezza, perché rispetteremo tutte quelle che sono le normative anti-Covid. Possiamo dire che in questi giorni ormai Leporano, almeno per ora, noi speriamo che nel futuro possiamo mantenere questo trend, Leporano è quasi Covid free. Resta soltanto un caso di positività in fase di guarigione e quindi al momento la situazione da noi è abbastanza tranquilla. Quindi speriamo di poter trascorrere un'estate serena. La dottoressa Iolanda Lotta, assessore alla cultura, al turismo e allo spettacolo del comune di Leporano, rivivi l'estate Leporanese. Un piatto ricco, piatto ricco micifico si suol dire. Ma davvero Leporano diventa non solo un riferimento cittadino, ma di tutta la provincia, della regione, perché ci saranno artisti e uomini di cultura di assoluto rilievo e poi va considerato anche il momento del folklore, insomma una estate da vivere. Un'estate giunta alla ventiquattresima edizione. Sì, abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di denominare questa rassegna rivivi l'estate Leporanese, perché uscendo da questo periodo di pandemia abbiamo voluto dare alla nostra comunità, non solo, proprio questo senso di rinascita, di rinnovamento. Di aggregazione innanzitutto. Di aggregazione fondamentale perché abbiamo voluto fortemente la festa di Patronale, la festa di Sant'Emidio, con le luminarie, con le gioste, proprio per dare quel senso di festa alle persone, sempre con il rispetto delle dovute cautele per quanto riguarda il Covid. Il cartellone è partito il 14 di luglio, terminerà il 18 di settembre. Ci sono tanti appuntamenti, 40 appuntamenti. 40 appuntamenti dove vede spettacolo, teatro, cultura, presentazione di libri, cover band. Ma abbiamo due appuntamenti importanti, quale un cantante neumelodico, Daniele De Martino, e anche il 5 con Clementino. Quello che volevo dire alla mia comunità è che non è un cartellone che rispecchia le esigenze dell'assessore, ma è un cartellone che rispecchia le esigenze di tutta la comunità e di tutta la provincia ionica. Per accontentare tutti i gusti, diciamo. Accontentiamo tutti perché veramente ci sono 40 appuntamenti che è difficile non trovare qualcosa che piaccia, che uno viene qui una sera e vuole trovare una cosa, ripeto, teatro, cinema, presentazione. Abbiamo Gambarotto, il giornalista di Rai 1, abbiamo la presentazione del libro di Monsignore. Tanti, ma tanti, tanti, tanti appuntamenti. Mimo Cavallo, la cover band depù, i vasconnessi, diciamo, fino agli anticorpi per quanto riguarda i comici. Veramente venite al Leporano, rivivete l'estate del Leporanese nel rispetto del Covid. Noi vi aspettiamo perché veramente vogliamo regalarvi un'estate all'insegna della spinterlatezza. La collega Nicla Pastore, coordinatrice della conferenza stampa di presentazione di Rivivi l'estate Leporanese. Leporano che si arricchisce di artisti, di uomini, di cultura e in questo modo arricchisce il territorio e non solo il territorio locale, cioè il valore di una dimensione che esula l'aspetto tipicamente locale. Le programmazioni estive comunali sono molto importanti perché hanno questa proiezione di apertura verso l'esterno e di coinvolgimento di altri ambiti territoriali. E poi, chiaramente, quest'anno assume un significato particolare, ancora più potente, perché ha l'ambizione e la possibilità di andare a smuovere anche l'economia del nostro territorio. Specialmente in questo momento terribile del Covid. Appunto, quindi è importante perché sappiamo che il mondo dello spettacolo riesce a movimentare un indotto altrettanto importante da un punto di vista numerico e da un punto di vista della qualità. Poi l'altro aspetto importante da sottolineare, insomma, che è stato messo giustamente in evidenza, è proprio la possibilità di consentire nuovamente quella socialità che purtroppo era stata, è impedita di fatto nella sua massima... In questo senso anche il rivivere, ecco. Il rivivere, ecco. Mi sembra assolutamente intelligente anche la denominazione del cartellone estivo, appunto, rivivi nell'estate leporanese. Quindi vale la pena davvero essere qui a Leporano, assistere a questi spettacoli di varia tipologia, come giustamente mi dicevi nella domanda che mi è rivolto, è con un cartellone molto variegato che tiene conto anche di tutti i palati culturali del potenziale pubblico. E niente, sicuramente un plauso all'amministrazione comunale, ma anche i tanti artisti che hanno aderito all'invito, che è stato esteso appunto dagli amministratori locali. Uno degli artisti, Franco Cosa, noto e arcinoto, si esibirà nella sua performance il 23 luglio, Canto la mia terra, l'orgoglio dell'appartenenza alle proprie radici. E' fatto sì, questo orgoglio che portassi questo spettacolo un po' in giro, con l'obiettivo proprio di esternarlo non soltanto nella nostra provincia di Taranto, ma anche in tutta la regione Puglia. Insomma, spero al più presto che arrivi questo bel momento. Saremo anche a Castellaneta quest'estate, faremo diverse, a Carosino, faremo diversi spettacoli con Canto la mia terra, che è uno spettacolo dedicato alla città di Taranto, partendo dalle origini, da 2000 anni a questa parte, fino ad arrivare ai giorni d'oggi con i brani nuovi che ho scritto da poco. Floriana Brunelli, New Ballet, l'appuntamento il 22 agosto, Donna dei Due Mari, come dire, l'evento per eccellenza, per premiare le eccellenze femminili. Sì, siamo molto felici perché ritorniamo a Leporano, siamo alla 14esima edizione del premio Eccellenza Donna, Donna Due Mari, e siamo contentissimi perché comunque in un momento così molto particolare a livello mondiale, a livello pandemico, siamo riusciti a riportare un grande evento all'interno di questo vertellone che per l'occasione riaprirà le porte del Castello Muscetto. In un'occasione particolare saremo proprio ospitati dall'altro principale del castello. Quindi ovviamente sempre con le misure di sicurezza e gli ingressi contingentati porteremo moda, spettacolo, danza, arti visive, tante associazioni che collaboreranno con noi, aziende del territorio che metteranno in passerella tantissime creazioni artigianali e la danza la vera protagonista. Concorso Lady Miss finalissima e leggeremo la bellissima Lady Miss del 2021. Morris Franchini, Discover Art, l'appuntamento del 29 agosto. Di cosa si tratta? È una visita guidata, teatralizzata a tema Divina Commedia. Praticamente tra il Centro Storico e il Castello Muscetto faremo appunto questa visita guidata e all'interno di questa delle letture teatralizzate con l'attore Giuseppe Calamunci Manetta della Divina Commedia, di tre canti della Divina Commedia. Antonello Conte, attore e regista, il 26 di luglio, la sua rappresentazione, la rappresentazione della sua compagnia, nato a Taranto. È nato a Taranto e un omaggio... Che vuol dire essere nati a Taranto? Significa tante cose. Innanzitutto è un omaggio a Daniele Serra, un attore tarantino che è scomparso. È nato a Taranto, è un viaggio nella Taranto di Sparta, di Di Falanto, di Taras. Entriamo nella Taranto Vecchia, di Di Marca Polla, le tradizioni, i costumi, gli aneddoti, la gulacchia si chiamavano, il Carnevale Tarantino. Insomma, tante piccole nozioni che la gente apprezzerà. È un contenitore emozionale che con Bruno Galeone alla Fisarmonica, il maestro, insomma, speriamo di condividere insieme a tutti quanti voi. Pino Antonante e la sua compagnia teatrale sarà di scena qui a Leporano, nell'ambito dell'estate leporanese, il 31 luglio. Parliamo di questa rappresentazione. Sì, sono due atti onici di cui sono lo scrittore, diciamo l'autore. Uno si chiama Urologe da Achiaz e l'altro Ushuba Femmine, che sono due distinte e separate. Uno Urologe da Achiaz che richiama la vecchia poesia di Don Diego Marturano, vecchio poeta tarantino, scrittore e drammaturgo, nel quale ci sono tre amici, parla dell'amicizia, mentre Ushuba Femmine di tutt'altra natura parla di altre cose, fra il donnaiolo in pratica questa commedia. Renato Petrelli con il suo Blues il 18 luglio sarà di scena. Sarà di scena. Sì, offro da 21 anni il Chicago Blues, che è uno stile musicale che è nato artisticamente negli anni 40 negli Stati Uniti. Un'occasione per far scoprire questa forma culturale. Sì, in quanto è una versione del Blues del Mississippi, che poi emigrarono, andarono a Chicago, nella città del vento, e si elettrificò. Quindi anche fa uso di strumenti vintage, armoniche particolari, microfoni a valvole, condensatore, amplificato, delle sonorità particolari. Angela Riccardo, in rappresentanza della Proloco di Leporano, una bella interazione, una collaborazione forte tra Proloco ed amministrazione comunale, istituzioni e, come dire, mondo del volontariato, mondo della cultura, mondo delle tradizioni e del folklore che si sposano. Sì, anche quest'anno, ovviamente, insieme all'amministrazione comunale, stiamo cercando di supportarla e di anche dare il nostro supporto con anche delle nostre iniziative a quest'estate laporanese. Quindi avremo quest'anno quattro eventi di mercoledì sul cinema, sabato 24 ci sarà un concerto di beneficenza con Mimo Cavallo e con degustazioni di vini, de quarto e prodotti tipici. E tutto questo, tutto il ricavato, andrà in beneficenza al reparto di Onco e Metodologia Pediatrica Nadia Toffi. Inoltre, ovviamente, anche quest'anno, come da 22 anni, faremo il Satirion per l'archeologia, il 18 settembre. La chiusura dell'estate laporanese. Faremo l'estate laporanese con il Satirion per l'archeologia. Inoltre, quest'anno, la Proloco ha avuto il compito di anche gestire le prenotazioni di tutti gli eventi proprio per un fatto di sicurezza Covid. Quindi si comunica che tutte le persone che vogliano partecipare a tutti gli eventi devono comunque contattare la Proloco qui all'Ufficio Informazioni del Castello oppure sui numeri che sono sulla Locandina e prenotare appunto per l'evento che desiderano. Bene, una conferenza stampa che ha presentato la 24esima edizione dell'estate laporanese. Rivivi l'estate laporanese con i suoi splendori in un momento particolare, come l'intera umanità purtroppo sta vivendo con il Covid, ma un'occasione per rilassarci, per fare cultura, per apprezzare quelle forme artistiche che servono a farci sorridere tutti quanti insieme. Appuntamento con Rivivi l'estate laporanese.